Rosa nero alle 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 Rosa nero alle alle Dopo l'eliminazione dall'Europa League, il Palermo di Delio Rossi, si trova a dover affrontare il Napoli, in quello che sarà un vero e proprio scontro diretto per il quarto posto. Delio Rossi dovrà, fare a meno di Bacinovi, grande punto fermo delle ultime partite dei Rosa. Quindi, a centro campo, si giocheranno un posto da titolare, il favorito Liberani, ed il sorprendente Rivoni. Il primo, nonostante sia rientrato da un infortunio, sembra recuperato, ma come detto di recente dal presidente, Liberani è incompatibile con Sabir Pastore. Quindi salvano le quotazioni del giovane ex Vicenza, il cui impiego comporterebbe lo spostamento di Nocerino nel ruolo dello sloveno. In casa azzurra, c'è entusiasmo, dovuto al fatto che i partenopei sono gli unici italiani, a poter sperare, nella qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Mazzarri metterà in campo il tridente, Cavani, Lavessi, Ansi, ma dall'altra parte ci sarà un altro tridente delle meraviglie. Sabir Pastore, Pioio Ilici, ed il capitano Padrizio. Non solo colore, rosa nero ci fa emozionare, Palermo nel cuore, la nostra passione, la vittoria conquista per noi. E finché avrò fiato tutta la vita, io Palermo per te canterò. E tutto lo stadio, un solo grido, perché abbiamo il Palermo nel cuore, canteremo. Pioio Ilici, ed il capitano Padrizio. Pioio Ilici, ed il capitano Padrizio. Grazie a tutti.